Io vi presento, sono Domenico Lombardi, Marte, Mimo San, sarei l'impratennitore di questo stadio. Facciamo un applauso a tutto lo stadio, ai signori più presenti, che mi permettono di fare queste cose. Intanto vi faccio attendere ancora perché l'attesa so... più attesa c'è e meglio è. Signori, io una cosa che voglio spendere in questo preciso momento, visto l'importanza in cui stiamo andando a festeggiare. Tutto il mondo, l'universo e l'esterno ci stanno preparando a pensare intorno a una che brilla. E quello in centro, oltre, il nome... Piena. 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 Facciamo un applauso a Piena. E per oggi la terra ce la diamo qui con noi. Un grande applauso che oggi si spezia un mezzo secolo, 50 anni. Ancheeringe a tutti gli blackmail. Votten. Non è canib��. RimThank you. Disvivo a tutti. Un grande applauso d'occhio. Non è canibette. Non è canibotte. un qualche cosa devi dire ai signori qua se non mi trovo è timida un applauso adesso secolo ancora è timida non è che sono timida sono emozionata ci dice perché ci sono le persone che forse io volevo che ci fossero tutte le mie amiche dove io lavoro i miei figli principalmente i miei genitori, un po' tutti vi ringrazio e poi la cosa più importante questo locale dove io lavoro dove per me è anche un'altra seconda famiglia da lasciare lasciare un applauso tanti amori e io invito a tutti quanti come è bello per l'amore da trieste in giù come è bello per l'amore io sono pronta e tu tanti auguri tanti auguri tanti auguri in campagna e in città com'è bello per l'amore da trieste in giù come è bello per l'amore che 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 è bello per l'amore Grazie a tutti.